arriva la conclusione ci deve mettere la mano Idrissi ottimo il controllo può provare a entrare uno contro uno Di Angelo passa Di Angelo ancora Di Angelo il tiro è murato da Zedda poi Fortunato ci riprova a deviazione González si può andare il fischio c'è stato va Cassama verso la porta l'aspetta lì Idrissi il pallone è buono per il Vila bravo l'arbitro a lasciare giocare perché c'è il vantaggio corre Miranda Miranda verso la porta Miranda sul fondo buona l'idea Ciriblano contro uno ancora Ciriblano calcia sul fondo dei problemi alla schiena di Sagitov Ciriblano cerca proprio Sagitov che passa Sagitov ed è tutto buono 1-0 per il Leboza quinto gol in campionato per Artur Sagitov Miranda passa su Magalucco Miranda ancora Melis puoi pensare al tiro Melis Melis in mezzo a 4 la palla sfila verso Kamba che calce finisce giù è tutto buono la sinistra da lui Miranda cercato ora può andare uno contro uno di nuovo Miranda cerca il sinistro va scivola anche un'aria Miranda può metterla in mezzo ancora Miranda cerca anche il tiro e alla fine dovrebbe essere calcio d'angolo sì in stupra posizione è lui si fa vedere Miranda il pallone in aria per il tacco di Kamba e se fosse entrata questa sarebbe stato il gol dell'anno Savage ancora con Ghiani che guarda la porta cerca il sinistro che Idrissi deve allungare in calcio d'angolo Agnin non ci arriva la palla fatta passare Sagitov Sagitov calcia su lui di Angelo Miranda mette il cross la testa di Grella ancora Miranda sul sinistro il tiro si va col cross il sinistro e non è entrato è rimasto lì ancora Villa Sinius Miranda col tacco per Melis eccolo il cross per Kamba palo palo clamoroso arriva ora il cross palla che sta lì nuova girata vorrebbero la mano poi la palla il salvataggio di Idrissi arriva il cross poi la conclusione che va sul fondo Raimondo però lascia giocare già palla messa in mezzo la sponda per Manca tiro sul fondo deve andare con velocità per Villa Sinius non ci riesce la palla allontanata da Carboni non c'è più tempo finisce qui il Bosa ritrova i tre punti sul campo del Villa Sinius che per la prima volta non trova punti in casa 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 non trova punti in casa